Vick perchè? Ehi! Ora mi dai subito la cosa che hai a destra La quella più vicina Subi- AAAAAAAA No cazzo E ora qua faccio- No la mia spara più forte te lo dico Vuoi vedere? Mi posso far malissimo No non mi fa fa male Vick però Ma stai- stai incitando l'auto lesion- Mmmmm no If you like Moodle Video you will love Moodle Life Link in the description below incredibile Ma sta facendo lo fanno su una gamba Cos'è che fai in una gamba? Sta- sta cagando Oddio stai uccid- Oddio! Noo! Ha 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 hahhh Ma è fortissima Mecca cos'hai fatto di bello in questo lunedì sera? Ehm. Allora io mi sono vista un paio di video Una era di Angelo Cracco che è greco in realtà però ormai per me e Cracco Non mi ricordo che video ero l'ho già rimosso dalla mia testa Mentre il secondo era quello di Maria Sofia Nuda Che ne stavi parlando venerdì sera no tu Però ecco Ho visto meglio il video E Sai che c'è gente che si abbona A su OnlyFans Sì ma secondo te Lei ci crede In quello che fa O è proprio un modo per Secondo me è un video Tutto quello che fa è solamente per far parlare di sé Quindi io non ci credo davvero Non è una vera attivista No non è una vera attivista Nel momento che poi ti conformi Cioè ti adegui al consumismo puro Dell'OnlyFans Dai Joe Dai non puoi Discorsi di sto ceppo di cazzo dai No Secondo me un pochino ci crede Sennò con quale coraggio si svesta così davanti a tutti In mezzo al museo Perché più fai parlare di te Più la gente viene a cercarti Più tu lavori Però secondo te perché sei svestita Non poteva fare questa cosa Perché vestita sarebbe semplicemente una Con una voce antipatica che è vestita Nuda È una cosa che Madonna mia Però puoi parlare di te stessa Solo per avere qualche scritto di OnlyFans in più Cioè dici che è quello O ci crede veramente Ma che Ma fa decine di migliaia di euro ogni mese quella là Dici che fa un botto di soldi Ma una persona che fa meno soldi su OnlyFans Fa migliaia di soldi di euro al mese Cioè dai Vic tu hai idea di quanti soldi faresti Se aprissi OnlyFans Ehm no Non voglio saperlo Vic Tu hai idea di quanti ne faresti? No No ma non mi Non mi interessa Io sarei il top donator No a parte gli scherzi Ti accorgi di quanti soldi la gente fa Sui social Quando tu magari lo provi E ti accorgi che magari nel tuo piccolo Fai già dei bei soldini Che per te possono essere belli E quindi ti viene a dire Cazzo ma quello che faccio io Moltiplicato per cento Capito? Sì ok Però io ripeto Cioè tipo Guarda io ti dico Come ho già detto mille volte A diverse persone Che hanno sempre Cercato di convincermi Che poi non ho capito Se questo convincermi È solo perché vogliono vedermi Eh? O perché ci tengono O perché ci tengono Al Alla mia Situazione economica Perché A me non me ne frega niente Se no l'avrei già fatto Sinceramente Se no Io mi sto Ti ripeto Vado a pulire piuttosto i cessi Che aprirmi alle fan Non sapere come sono fatta io Questa cosa ti fa un'ora Sì veramente Per questo Infatti Domani andrò A un colloquio di lavoro Per pulire i cessi? Eh? Per pulire i cessi? No 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 A vendere il vino Nel capito Devo andare in Lituania A vendere i vini No a chiedere Cioè devo vedere Vedo così mi dicono domani Vedo Una vinoteca Vediamo Faccio da Dequistazione Secondo me ti fa veramente un botto onore il fatto che non pensi minimamente a OF come ipotetica soluzione Ho pensato sai tipo per ridere mi son detta ma si tipo le foto dei piedi che ogni tanto mi arrivano i messaggi su Instagram dove mi chiedono le foto dei piedi no le persone però Anche quello Potrei farlo però non lo faccio Quello secondo me è molto Cioè quello lì chi se ne frega Giri Ti fa girare 20 euro Paypal Fotino dei piedi Sì però Però per dirti nemmeno quello lo faccio Ok E ti fa ancora più onore sta cosa Vabbè Comunque credo che sia abbastanza difficile a trovare il giorno d'oggi per ragazze forse Che non faccio no le falsi E poi 25 a piede Cioè comunque 20 euro a piede col cazzo Se dovessi vendere le foto dei piedi le venderei almeno a 100 euro per dire E però adesso basta sta cazzo di grezza ti do 30 euro e voglio anche il bonus piedi uniti uno sopra l'altro Dai no no Col cazzo no no Adesso ok tutto carino però 30 euro doppi i piedi non di più Non lo so però quanto costano tipo le foto dei piedi qualche esperto? Eh una ventina Pochissimo Non so capito ma 100 piede? Eh a piede esatto Ma che a piede? Oh i piedi della ragazza lituana preziosi nel mar baltico figurati Eh però ho venduta così Sono quasi tentato sai 100 piedi ma ne ho No comunque si ti fa molto onore Brava Vic Molto brava Dici? Sì perché la scelta Allora secondo me le persone che arrivano a parlare di OF esistono più tipi Ci sono quelle lì che magari dicono Cioè OF come ultima soluzione Che magari sanno che hanno un seguito sui social E allora effettivamente lo fanno E lì come ultima soluzione guadagnano Possono guadagnare tantissimo A seconda di quanto seguito hai Perché anche lì funziona tanto se Hai già una base Tipo come su Twitch no? Il tuo pubblico viene dall'esterno Ci sono poi invece quelle persone che magari Cioè lo dicono Giusto così per far credere agli altri che riuscirebbero a fare soldi Quando in realtà magari sono delle cesse clamorose Ah sì ah mi apro F perché tanto è semplice fare soldi Quando in realtà Finendo di flexare Che in realtà poi se lo aprissero realmente non farebbero nulla E poi secondo me ci sono le ultime Ma non per importanza Anzi quelle che si rispettano di più Che sono magari le persone che appunto Potrebbero fare qualcosa Potrebbero perché Tanto il primo mese che fai di OF guadagni un bot Il primo mese Il primo mese è una novità Poi è difficile Il primo mese è un bot Esatto Però comunque cioè ci sono persone Io in primis ho conosciuto ragazze che in un mese di OF Si sono tranquillamente messe a posto per tre anni per dirti capito? Cioè ma che tu dici Sì però capito Allora devi avere dei principi O non te deve fregare un cazzo Ok E va bene Oppure devi avere dei principi Oppure magari per ora puoi vedere anche come Eh però così do una mano ai miei genitori Sì ho capito Ma dai una mano ai genitori andando a lavorare normalmente Come fanno tutte le persone Però sono le Sono tipo Preferisci farti la strada più lunga Ma che non ti denudi almeno Comunque non ti svendi O preferisci prendere la strada più veloce No no è vero è verissimo Che va bene in entrambi i casi Cioè cazzi tu hai la tua vita Fai quello che vuoi Però ecco nel mio caso è Preferisco guarda Piuttosto faticare un attimo Però Almeno In realtà questa è tutta una scusa Perché domani inizia a vendere vini Tra due mesi Foto nuda con le bottiglie di vino Che la coprono Pam Doppia pubblicità Sia all'azienda che a Bic Impossibile No comunque A partire No questa cosa della strada è vero Però sai cosa secondo me Con il fatto che poi adesso Cioè Instagram ha sdoganato i capezzoli Ognuno può vestirsi come si pare Che giusto ci mancherebbe Che vuol dire Instagram ha sdoganato i capezzoli Che se sei una ragazza Le puoi far vedere Sì Puoi mettere una foto Nuda Quasi nuda Con un top trasparente Che Instagram non ti dice nuda Comunque Se fosse così però vabbè Comunque vabbè Negli ultimi anni Comunque vabbè Il fatto è che dai Si sta tanto Cioè come se è normale Comunque vedere Le tue amiche I tuoi amici O chiunque nudo È un giorno d'oggi Sì E quindi non si dà più al peso Alla propria intimità Cosa che invece Supporto Cioè è bello che non lo fai Tipo il giorno d'oggi È un Anzi Magari prima era Mi dai il tuo numero di telefono Poi era Mi dai i tuoi social Mi dai il tuo Instagram Mi dai il tuo Facebook Cazzo ne so Adesso è È anche un infanzo Che vediamo come questa persona Anche sono un infanzo Cioè Ormai Non rimane più nulla Di intimo Esatto Cioè tu paradossalmente Di una ragazza O anche di un ragazzo In realtà Perché vale la stessa Identica cosa Anche se secondo me Per una ragazza È più facile trovare Quella che fa o è Sì Però sì Tu paradossalmente Puoi già sapere Tutto Tutto In quanto Un'ora Nemmeno Ma che uno Cioè ci vuole un attimo Veramente Sì Cioè il tempo materiale Di caricare Cioè puoi vedere Com'è esteticamente La vedi subito Sì ma che brutto così Perché poi Tutto Sono tutte apparenze Giudichi in base Alle apparenze No Più che altro Però dipende anche lì Cioè Se cerchi Persone Da conoscere Come Da conoscere Come magari amici O cerchi Qualcos'altro E quindi lì Magari per forza Giudichi in base All'apparenza Perché vuoi solo quello Basta Secondo me Boh Non lo so Cioè tu Tipo ti faccio un esempio Metti caso che Vedi un ragazzo Che ti interessa E vedi che però Nel suo Instagram C'ha In bio O F Eh non ho mai guardato L'only fans di nessuno Ok no dico In automatico Quella persona La vede in occhi diversi Eeeh Tipo Sì Ok esatto Io se vedo una ragazza Dico Ok carina Metti caso che ti incuriosisce Incuriosisce Sì 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 E poi vedi che c'è O F Cioè secondo me Ahimè davanti c'è un muro Che dice No Cioè cade tutto quanto Capito Ci sono anche tipo Che ne so Le ragazze che postano Determinate cose Su Instagram Che magari non abbiano Non c'è niente Nulla a che vedere Con tipo Del nudo Cosa così E quando i ragazzi Commentano sotto Dicono tipo Non ho detectato L'only fans Quindi punti in più Ok Tipo ricevi dei punti in più Solo che Se non hai L'only fans Si può dire Non so come dirlo Cioè È quella roba Che ti vende a dire Oh forse c'ho C'ho qualcosa Da scoprire No È che ci tiene Boh a se stesso Un attimo La prova Si capito Ok giusto Però dopo allo stesso tempo Una ragazza che ha O F Ti dice Ah ma anche io ci tengo a me stessa Proprio perché tengo a me stessa Avendo il mio corpo Vabbè Cazzo tuoi però Intanto Ti svendi Per conto mio È così Ti abbiamo vista nudo E basta Non c'è niente da nascondere Cosa vuoi Devi farmi scoprire La tua personalità Il mio O F È esistito Marco lo sai Io ho fatto O F Sì mi ricordo che l'avevi detto Quindi sì Però No Andri Niente O F di coppia Perché poi dopo Mi lascerei prendere dalla passione Per te te lo dico Ho capito che ci sono persone Che se riescono a comprare robe Sono a posto per anni Ok va bene Ci sono Cazzo loro Sono Ripeto È una questione di principi Questione di principi E come Cosa vuoi Far vedere tu Basta Però dopo sì La roba di principi Secondo me È anche la roba che Cioè i soldi comunque Hanno sempre attirato chiunque Quindi tu puoi essere una persona Che Allora vai a vendere la droga Cioè Quindi vai a vendere la droga Vai a prostituirti Fai quel che vuoi Solo per dei soldi in più No perché O F È legalizzato O F È legalizzato Quindi non è che tu vai In mezzo alla strada A venderti Tu Tu dici Vendo solamente delle foto Normalissime In intimo Come se andassi al mare Però avendo le foto Quindi da quel punto di vista Io ti posso dire Ok Però effettivamente Non sarà mai così Perché tanto la gente Richiederà sempre di più E quindi se tu vuoi continuare A vivere quella roba Stare nella cresta O A sopravvivere Devi per forza Secondo me però Dipende anche Cosa fa il suo OnlyFans Perché ci sono diverse cose Che puoi fare Dico Boh Tu parli delle foto In intimo Sì ma È già diverso Da chi È nudo Oppure da chi Fa dei video Un attimino più Ok Però il fatto è che Tanto tutto Si parte sempre dall'intimo Ah dicono Vabbè Inizio così Te lo assicuro Te lo assicuro Si parte Ho sentito dire sta cosa Si parte dall'intimo Che dici No ma faccio solo quello Poi dopo Cos'è che succede Perché su F Funziona letteralmente così Arriva quella personcina Quello metto Quello Quella Si Ometto Che ti dice Bella la foto col costume Mi fai un video dove Giochi con l'elastico Ti do quei 100 euro in più E tu dici Beh dai Gioco con l'elastico 100 euro Va bene Poi dopo Quella roba Inizierà a diventare La normalità Perché ovviamente Tu ogni mese Poi per tenere Tutti gli abbonamenti E per far sì Che le persone ripaghino Tu devi Cioè non è che puoi sempre Rimettere la stessa cosa Quindi devi far vedere Che c'è sempre qualcosa in più Per poi trasformarsi In un vedo Non vedo Hai capito? Vabbè Quello è un modo Per avere anche Sempre le persone Forse partono Da Quasi vestite Proprio per poi Mantenere La clientela E far pian piano Scoprire cose Se no Sei nudo e basta Cosa fai vedere Le prossime volte Vero Ma poi dopo Con il nudo Tu dopo inizi a fare video E dopo allora Lì è un lupo infinito Prendete appunto Esatto Per i vostri profili Mai Vabbè No col cazzo Col cazzo Col cazzo ti dico Già Giusto 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 E se ti dicessero però Adesso ti faccio una domanda Poi sei libera di rispondere O come Rispondere o no Qual è stato il tuo mese più alto In generale In tutti i social Cioè tutto unito Il mese che ti ha portato di più Quanto ammonta? All'incirca dai Senza che Non voglio far conti in tasca Nulla Il mese di dicembre In generale Che ti sono arrivate Non tutti gli anni Cioè io so Tipo nella mia testa So che il gennaio 2023 È stato l'anno in cui ho ricevuto Di più in assoluto Perché? Perché ci sono state delle sponsor Poi avevo fatto tipo Una piccola maratonina Non mi ricordo Qualcosa di qua e di là Forse il mese di dicembre Se il mese di dicembre Su Sui mille ti dico Ok Se ti dicessero che Però combinate le cose Tutti insieme mille Sì più o meno Ok se ti dicessero che Nel tuo primo mese di OEF Nel tuo primo mese di OEF Ti arrivassero Diecimila Ok Cioè ok Così Sei sicura che il primo mese Ti fanno diecimila? Ci penseresti? No No? Ma io non sono disperata Così tanto Ma non sei tanto Se sei disperata Comunque cioè Secondo me Questa cosa è vera Io non sono quel tipo di persona Ogni persona però ha un prezzo No 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 Sì Vic Ogni persona ha un prezzo No 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 Eh dici no tu non hai un prezzo Se ti chiamasse Uno sceicco Per mangiare la sua merda Io dico Vaffanculo Sceicco di merda Mangiti la merda da solo Coglione Con i tuoi Cazzo di Cammelli Quindi tu mi stai dicendo Che vitrusioness In questo preciso istante Non avrebbe un prezzo No Non ci credi? No Perché io sono delia Che tutti hanno un prezzo Allora ti dico Di pe Allora dimmi Fammi un esempio Per esempio Il caso dello sceico Che cosa si fa con questo sceico? Una cena? Io ti dico Apriro F È il primo mese Pubblicando Cose chill Chillissime Il primo mese ti arrivano 15k Che vuol dire cose chill? Che vuol dire cose chill? È in intimo per dire È normale Capito? No no Come il costume È in costume ma lì 15k il primo mese E poi basta? Puoi fermarti? Non lo faresti 20k? No non lo faccio per nessuna cifra Certo se mi dai un milione No no un milione dai Joe Ok allora no Quindi nemmeno per tipo 50k Guarda ti ripeto Per come sono io Preferisco farmi il culo A fare le robe E guadagnare questi 15k euro In un mese Facendomi il culo Dormendo poco alla notte Ripeto Pulendo pure i cessi Facendo mille lavori Però almeno dico Oh Sono a pace con me stessa Eeeh Dormo tranquilla la notte Eeeh Nessuno mi rompe il cazzo Nessuno si mette lì A giudicare Come cazzo sono fatta Vaffanculo tutti Io sto bene In più so che queste cose Non rimarranno su internet E nessun Ok Sono cose mie Sono cose private Io ragazzi per 5k ve lo succhio E nessuno mi rompe il cazzo